Professor Freud, sono il dottor Jung. Io ho soltanto aperto una porta. Aspetta ai giovani come lei a attraversarla. È la persona che cercavi per il tuo trattamento sperimentale. Mi parli della prima volta in cui è stata picchiata da suo padre? Dal regista di A History of Violence e La Promessa dell'Assassino. Gira la voce che lei abbia preso una delle sue pazienti come amante. Keira Knightley, Vico Mortensen, Michael Fassbender, Vincent Cassel e Dangerous Method, un film di David Cronenberg. Non pensi che dovremmo fermarci? Tu vuoi fermarti? Dal 30 settembre al cinema. Grazie a tutti.